Abbiamo il piacere di avere con noi la Presidente nazionale di Confesercenti, Patrizia De Luise, che nel suo giro per conoscere Confesercenti territoriali ci ha chiesto di fissare un appuntamento qui nelle Marche. Abbiamo scelto Fano perché è una città importante nel tessuto anche della Confesercenti regionale e parleremo con lei assieme a Manuela Bora, che è l'assessore regionale di commercio, e Gino Sabatini, Presidente della nuova Camera di Commercio delle Marche, della situazione locale e delle prospettive anche che questo nostro settore della distribuzione, del terziario, hanno nell'economia generale e anche nell'economia regionale. Nelle Marche non si può non partire dalla situazione anche particolarmente drammatica dell'evento terremoto, che ha coinvolto quasi tutta la regione e che ha in qualche modo aggravato anche quel fenomeno di difficoltà e di abbandono dei centri rurali e dell'entroterra che erano già problematiche piuttosto importanti. Quindi a partire da lì cercheremo di sviluppare quelle che invece sono le potenzialità, la cultura, il paesaggio, il turismo, che possono essere invece le cose, i settori dove i nostri imprenditori vogliono vivere e dove ancora c'è possibilità di investire anche da parte dei giovani che vogliono intraprendere questa nostra attività. L'incontro si terrà mercoledì 6 marzo alle ore 17 nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa del Risparmio di Fano in centro storico a Fano.